E ora parliamo di industria agroalimentare che oggi si serve di tecnologie sempre più perfezionate. Guido Pocobeglie. L'agroindustria è tra i settori trenanti dell'economia campana dal campo alla tavola, non solo produzione ma anche trasformazione, distribuzione, un comparto che dà lavoro e che soprattutto offre interessanti prospettive. Fondamentale l'aiuto delle nuove tecniche di cibo e tecnologia hanno discusso agronomi chimici industriali in un incontro promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Il numero di studenti che si avvicinano negli studi universitari a questo settore sta crescendo in una maniera esponenziale. Il numero di occupati è molto elevato e il tempo necessario per trovare la prima occupazione è estremamente ridotto. È una nostra sfida questa degli ingegneri di portare a Milano, all'Expo, quelle che sono le eccellenze alimentari della nostra regione e far conoscere anche quello che sono poi ancora di più, quelli che sono i beni culturali, monumentali e artistici della nostra regione. Indispensabile promuovere una sinergia industrie e università professionisti per investire nella ricerca avanzata di nuove tecnologie in grado di far crescere la competitività delle imprese.